Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con Conto alla Rovescia, la puntata conclusiva di questo Tour de Force che abbiamo dedicato alle regionali del 25 e 26 giugno nell'ultima puntata, come abbiamo anticipato anche nelle settimane precedenti. Abbiamo qui nei nostri studi tre candidati alla Presidenza della Regione Molise, Francesco Roberti, Roberto Gravina ed Emilio Izzo. Vogliamo così offrire un momento di confronto con i candidati a tutti i molisani che ci stanno seguendo. Lo faremo con una serie di domande di interesse generali sui quali chiederemo ai tre candidati di esprimere le proprie intenzioni, garantendo il rispetto dei tempi e della libertà di espressione di ogni posizione. Qui al mio fianco questa sera c'è il direttore responsabile di Teleregione, Pierluigi Boragini, che ringrazio per essere qui con me. Dico anche che abbiamo effettuato un sorteggio prima della trasmissione, per cui parerà prima Roberti, poi Gravina e infine Izzo. Allora la prima domanda che vorrei fare a tutti e tre. Che campagna elettorale Roberti ha portato avanti? Cosa si sente di dire alla sua squadra che l'ha sostenuta? È stata una campagna elettorale stancante ma piena di soddisfazioni. Siamo stati nelle piazze, siamo tornati a vivere in mezzo alle piazze, quindi a portare la politica in mezzo alle piazze. Facciamo partire il countdown però per cortesia, sono momenti decisivi, prego. Una campagna elettorale emozionante, siamo tornati in mezzo alle piazze, in mezzo alla gente, ad avere l'affetto e a dimostrare la serietà della politica. Una bellissima campagna elettorale, andiamo a vincere questa campagna elettorale perché abbiamo avuto molti riscontri, c'è stato da parte di tutti i nostri candidati un lavoro capillare e quindi sulla base di questo possiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto finora. Le sue sette liste hanno risposto bene, secondo lei? Ma guardate, al di là delle liste, proprio devo dire che tutti i candidati hanno inteso questa campagna elettorale come un momento di partecipazione, un momento di portare i nostri programmi in mezzo al territorio, in mezzo alla gente, di far capire che abbiamo voglia di cambiare, voglia di far cambiare questa regione e di considerare questa regione al centro della nostra attenzione politica. C'è stato qualche momento di criticità? No, soltanto nel periodo in cui non è stato possibile stare in mezzo alle piazze per il maltempo di questa campagna perché noi amiamo fare questo. Io amo personalmente avere il contatto diretto e quindi in qualche maniera abbiamo superato tutte quelle che potevano essere qualche criticità, ma abbiamo recuperato bene, siamo soddisfatti e quindi molto positivo sotto l'aspetto del risultato elettorale. Qual è il suo umore? Buono, stanco, ma buono, si è soddisfatto, perché poi io sono abituato a lavorare. Quando ho fatto tutto quello che devo fare, do la coscienza a posto nell'impegno, nel confronto, mi sento appagato. Ecco, anche se i tempi sono stati brevissimi perché è stata una campagna elettorale molto breve. Beh, è stata una campagna elettorale molto breve, è stata una campagna che per raggiungere interi territori, le aree interne, ci vuole molto lavoro, ma anche molta fatica, perché a causa della nostra viabilità, a causa della situazione in cui il Molise in qualche maniera è collegato. Devo dire che altrettanto entusiasmo c'è stato da parte di tutti quelli che hanno aiutato a me come staff in questa campagna elettorale. Bene, Roberto Gravina, allora qual è il suo umore? Come va? Come si sente? Come ha risposto l'agente al suo input in questa campagna elettorale? L'umore è buono semplicemente perché sappiamo quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo realizzato, siamo partiti per la verità un po' prima rispetto agli altri semplicemente perché la scelta del candidato presidente è stata prematura rispetto, seppur sappiamo con le discussioni che ci sono state, però l'inizio della campagna elettorale c'è stato seppur informalmente prima. Il territorio l'abbiamo girato, siamo stati davvero mezza raggente, noi eventi al chiuso sostanzialmente non ne abbiamo mai fatti. perché? Perché riteniamo che la politica deve tornare ad appropriarsi dei luoghi pubblici senza fare inviti, semplicemente fare in modo che le persone sappiano quando si è sul territorio e creare quella giusta attenzione libera, insomma scevra da appartenenze politiche o da clac. Per cui è stata sicuramente una campagna elettorale stancante, come è normale che sia, però anche entusiasmante perché poi è stato un crescendo quantomeno di interesse. Ecco, in una stagione politica dove si parla molto di astenzione, quindi di non andare al voto, abbiamo cercato di trasmettere un'idea fondamentale che per quanto ci riguarda da una parte c'è la continuità rispetto al passato, da questa parte invece c'è la possibilità di rinnovare davvero il Consiglio regionale, almeno per i due terzi, perché è chiaro che in funzione di chi vincerà le elezioni con il premio di maggioranza chiaramente questo realizzerà un rinnovamento del Consiglio, soprattutto perché, lo ribadiamo ancora una volta, i cambiamenti possono esserci sicuramente non da coloro che hanno causato i problemi di cui oggi parlano per risolverli, ma da coloro che invece si prospettano come essere una novità, soprattutto anche nella composizione delle liste, perché sicuramente c'è qualche persona di maggiore esperienza passato, ma il resto sono tutte persone nuove. Emilio Izzo, come giudica la sua campagna elettorale? Beh, intanto comincerai a giudicare gli altri, perché se tutti dicono che sono stati con la gente, se tutti dicono che si sentono in crescita, noi abbiamo un termometro diverso, perché noi ci siamo stati con la gente, ci siamo sempre stati, ma mi dispiace dire a loro che invece noi notiamo una decrescita dei due schieramenti e lo notiamo ovviamente parlando con le persone, ma la cartina al tronasore, perché qualcuno potrebbe dire che questa è presunzione, no, ho lanciato subito, forse dopo due o tre giorni dell'inizio della campagna elettorale, l'idea di un confronto pubblico, ecco lì dove ti vai effettivamente a stare con la gente, non con la tua gente, con la gente, quella più diversificata, da tenere nelle tre piazze principali, Sernia, Campobassa e Termoli, non lo so, non ho mai ricevuto una risposta in tal senso, quindi devo immaginare che forse quel contatto con la gente non c'è stato, se non quella mica, che va a diminuire, ne sono certo. C'è anche un altro aspetto da mettere in evidenza, è che le persone che si contattano quotidianamente, rispondono anche a come mi sento, io mi sento una schifezza perché ovviamente ho lavorato già da tempo per portare all'opinione pubblica i temi che noi stiamo attenzionando e che sono gli stessi del nostro programma, però questo si è notato, sono molto stanchi di recepire i programmi degli altri che non hanno mai applicato e vanno alla ricerca di altri, questa massa di non voto ovviamente avrà un motivo e se non vogliamo dire che sono stupidi dobbiamo dire che sono stanchi per qualche motivo e forse sono stanchi per questa politica che abbiamo avuto negli anni che noi combattiamo nella misura democratica, cioè quella di creare una terza forza che è contro il sistema, perché noi nel sistema non vorremmo entrarci nella misura in cui non è governabilità, ma è soltanto rendere un piatto e non dare ad altri la possibilità di dire esisto e sono molisano. E allora, innanzitutto vi faccio i complimenti perché è stata una campagna elettorale molto corretta, con i toni giusti secondo me. Avete detto tutti che avete girato il Molise in lungo e in largo e avete toccato con mano, ma non ce n'era bisogno perché il Molise lo conoscete bene, le difficoltà nel raggiungere i vari posti del Molise, da Venafro a Termoli. La mia domanda è sull'autostrada del Molise o sulla quattro corsie che dir si voglia, perché il 18 gennaio del 2008 a Campobasso Iorio, l'allora ministro Di Pietro e l'ex numero uno Diana Seciucci firmarono l'atto costitutivo di autostrada del Molise S.p.A. Sono passati 15 anni, i molisani, il concetto dell'autostrada o comunque di una strada a scorrimento veloce, lo hanno sentito negli anni ma non si è messa una sola pietra, anzi si sono sprecate risorse pubbliche perché l'S.p.A. autostrada del Molise è costato ai molisani. E allora, la domanda mia che vi faccio è questa, è realizzabile quest'opera? Se sì, come, in quali tempi, qual è il messaggio che deve arrivare ai molisani che attendono un'opera strategica ormai da davvero tanti, troppi anni? Teniamo conto che in questa occasione ci sono i PNRR e il ministro Fitto in qualche maniera già ha dato la sua idea di quello che dovrà essere lo sviluppo del centro-sud Italia e quindi anche il Molise rientra in questa logica. Vorremmo un'infrastruttura che garantisca il collegamento da Termoli a Venafro per arrivare ad avere la trasversale dei due corridoi nazionali che sono il corridoio tirrenico e il corridoio adriatico perché attraverso questa infrastruttura si avrà la possibilità di collegare l'Italia e quindi in qualche maniera dovrà essere centrale la regione Molise. Ma non è sufficiente solo questo. Dopo l'accelerata idea di qualcuno di chiudere le province, da quando sono state chiuse le province, le aree interne sono state completamente lasciate all'abbandono perché hanno un disastro sotto l'aspetto delle strade provinciali. Mi auguro che il governo di centro-destra voglia rimettere mano a questa idea, appare di sì e quindi ripristinare le province perché non basta soltanto un collegamento viario veloce. Occorre anche quelle infrastrutture che dall'interno giungano a queste infrastrutture principali perché così si ha una vera mobilità regionale. Noi arriveremo in tutti i modi a definire un'azione sicura, certa e basata su dei finanziamenti concreti perché il Molise abbia questa infrastruttura, al di là se sarà autostrada o se sarà superstrada. Quel che conta è tempi certi questa volta e soprattutto la realizzazione di un'opera che non può ogni volta che cambia il governo ripensare o spendere quattrini, così come abbiamo visto finora. Quindi per quello che riguarda il nostro programma elettorale dovrà essere un programma su cui si basa risorse, investimenti, tempi certi nella progettazione, nella realizzazione e nella canterizzazione delle opere. Questo vale sia per le strutture principali che per quelle secondarie. Gravino. Io intanto registro un po' di confusione nel centrodestra semplicemente perché sento Michele Iorio che prenota un posto da vicepresidente in regione e un assessorato e parla di autostrada come condizione per la sua candidatura. Poi sento Salvini che critica il governo Toma e parla prima di superstrada, poi di autostrada e poi ritorna sulla superstrada. Segno evidente che il più delle volte questa infrastruttura viene utilizzata in campagna elettorale, un po' come lo stretto di Messina, per far credere che la risoluzione dei problemi del Molise passi per questa infrastruttura, che è in parte vero, ma da qui a 15 anni, se fossimo i più bravi, innanzitutto il Molise rischia di morire in tutto questo periodo che passa tra la progettazione e la realizzazione. Quindi nel concreto noi abbiamo detto che è necessario sicuramente avere un collegamento veloce, ma nel frattempo bisogna investire innanzitutto in infrastrutture esistenti perché noi abbiamo una condizione davvero gravosa dello stato dell'arte delle strade e delle arterie che oggi sono in parte manutenute da ANAS, anche quelle provinciali in accordo con ANAS perché altrimenti sarebbe stato impossibile avere una manutenzione, ma poi bisogna parlare anche di ferrovie, noi abbiamo attualmente anche l'interruzione della rete ferroviaria, la cui elettrificazione è ancora attualmente a dei ritardi importanti, poi c'è il collegamento anche sulla costa, quindi attualmente noi abbiamo un'interruzione anche da questo punto di vista. Quindi riteniamo che si debba intanto investire sull'intermodalità e nel frattempo assolutamente siamo d'accordo ad un'infrastruttura viaria che colleghi Oriente e Occidente in modo tale da superare un isolamento, però attenzione perché da noi mancano anche le piattaforme di logistica che oggi sono fondamentali in un mercato che ha di fatto creato una sorta di velocizzazione del trasporto delle merci sia dal piccolo consumatore che dalla distribuzione più grande soprattutto per i collegamenti delle imprese. Izzu, prego. Sono diversi gli aspetti, certamente l'idea di eliminare le province parte da un vecchio progetto di destra, poi attuato perché questi sono bravi tutti e due a rimballarsi le responsabilità dalla sinistra e quindi io sono e confermo sono per le province, anzi ancora più che la regione perché sul territorio l'abbiamo visto eliminando i cantonieri e tutto quello che è successo. Andiamo invece sulla grande viabilità. Certamente il collegamento ci vuole, l'ho detto da sempre, da una parte all'altra con le quattro corsie, assolutamente niente autostrada perché sarebbe un'opera di un impatto straordinariamente negativo per il Molise, quindi un'opera che si adagia, a una delle due che già esiste non dobbiamo spendere montagne di soldi per le progettazioni perché se è vero che non è stata mai realizzata è anche vero che in 15 anni qualcuno ha fregato un sacco di soldi in quel calderone e quindi non si è concluso niente. Noi non abbiamo governi amici quindi non possiamo dire che si farà o non si farà, siamo certi che un tracciato minore sarà più semplice anche da progettare perché esiste già il tracciato, bisogna soltanto appoggiare a quello, quindi eviteremo anche tutti questi mastodontici carrozzoni che ovviamente non sono a servizio dei cittadini. Eviterei quello sì, l'otto zero perché 250 milioni di euro per fare 5 km e devastare un tratto di strada bellissimo che è quello tra Pesca e Miranda sarebbe una jattura, tra l'altro quei soldi potrebbero essere realizzati per cominciare anche a realizzare le quattro corsie appunto da Venafro verso i Segni e bypassare Venafro che muore di inquinamento, magari di questo ne parleremo più avanti, ma quella piana che soffre non solo di inquinamento automobilistico ma ben altro dalle ciminiere potrebbe essere in qualche modo alleviato da quella bretella piuttosto che fare quella bruttura dell'otto zero che tra l'altro non serve a nessuno, è stato dimostrato. Però insomma state attenti cari amici perché tra l'uno e l'altro ogni volta ci ritroviamo sempre a dire che qua qualcosa non funziona. Si parla di sanità, si è parlato molto negli anni precedenti anche a causa del Covid che ha messo in ginocchio tutte le regioni d'Italia compreso il Molise, però si parla anche di una rimodulazione degli ospedali regionali. Qual è la sua idea Roberti? Noi l'idea ce l'abbiamo chiara, a differenza del centro-sinistra che è una parte che fa invettive tutti i giorni contro il privato, definendole anche in maniera impropria di cui insomma me ne guarderei. La nostra è un'idea che è quella di ridare dignità alla sanità molisana perché dopo il decreto Balduzzi voluto dal centro-sinistra in qualche maniera ha distrutto l'unica regione, la sanità nel Molise. Noi abbiamo parlato già chiaro con il Ministro, noi necessariamente dobbiamo far sì che nel Molise ci sia un dea di secondo livello per garantire la sopravvivenza sia dell'ospedale di Isernia che quello di Terme e considerare per fortuna che la legge lo considera le aree disagiate, in questo caso Agnone. Dopo va da sé che bisogna riportare la medicina territoriale e garantire gli interventi delle patologie tempo dipendenti, tale per cui su questo va fatta una rete dell'emergenza e costruita una rete dell'emergenza, ma la base di tutto è ristabilire i nostri ospedali, potenziarli col personale. Noi abbiamo già detto che metteremo a disposizione un milione l'anno come regione per le borse di studio dell'Università del Molise per ottenere in cinque anni un numero di specializzanti che sono quelli necessari per andare a occupare i nostri reparti che oggi sono carenti di medici, perché da quando sono stati mandati in pensione i primari, da quando sono stati fatti più i facenti, ci sono solo i facenti di funzione, la qualità della sanità in Molise è scesa di parecchio, non è più attrattiva, invece noi vogliamo una sanità che diventi attrattiva e che può essere anche come punto di riferimento per le altre regioni e quindi essere sfruttata come un servizio. Chi invece prima ci ha preceduto in qualche maniera, così come ha pensato di togliere le province, ha pensato di togliere la sanità e ha pensato che il Molise fosse una Disneyland, basti pensare a Conte che ci vuole regalare 250 milioni di euro per i trattori anziché per le strade, quindi non è questa la nostra politica. Gravino. Intanto è strano questo meccanismo per il quale l'orologio sembra come se si debba spostare sempre più indietro e credo non convenga da parte del centrodestra parlare di storia, perché la storia di questa regione è di centrodestra e lo dimostrano gli sconquassi finanziari in una regione che non ha ancora un bilancio. Sulla sanità noi siamo stati chiari, abbiamo detto che non ci interessano contrapposizioni e su questo tra l'altro nel programma è scritto, quindi una cosa è quello che c'è scritto nel programma, l'altra può essere quello che magari può essere detto, ma chiaramente è stato condiviso un programma e quindi abbiamo inteso ribadire il concetto che il controllo, l'attività di controllo innanzitutto è essenziale per permettere che il diritto alla salute sia rispettato, perché poi si parla spesso di mobilità attiva, ma qualcuno dimentica che la nostra mobilità passiva è enorme, segno evidente che i molisani scegliono di curarsi fuori dalla nostra regione perché evidentemente quello che offriamo come regione non è sufficiente. A questo aggiungiamo che poi abbiamo dato delle misure concrete per superare il problema del personale, quindi con un'incentivazione ai concorsi per i medici. Abbiamo parlato di un cup unico regionale, cosa che finora non è stata fatta anche in questi ultimi 5 anni che consentirebbe un accesso più rapido alle cure sia nel privato che nel pubblico, ma un attento controllo per evitare che alla fine dell'anno poi si esaurisca il budget e sappiamo quali sono stati i problemi anche per la radioterapia in regione. Poi abbiamo parlato anche del policlinico universitario che è essenziale per clinicizzare la nostra sanità e sopperire ad una parte di carenza di medici e poi ovviamente chiediamo che quelle che sono state le promesse di cui si è parlato, il superamento del decreto Balduzzi che tra l'altro le cui origini sappiamo dove arrivano, cioè a chi dobbiamo quell'organizzazione sanitaria, ma la cosa essenziale per noi adesso è fare in modo che gli ospedali possano funzionare perché attualmente noi abbiamo carenze di medici che non consentono l'attivazione proprio delle cure da parte dei reparti che sono. Izzo? Beh certo un rimballo di responsabilità sul Balduzzi è molto simpatico, insomma va da sé che sicuramente in quel decreto qualcosa di buono c'è ma c'è tanto di negativo per la nostra regione e non è stato mai difeso ai tavoli, questo è un dato, così come non è stato mai modificato perché io vorrei ricordare a chi ci ascolta che è un decreto lo scrivono le persone, quindi poi le altre persone ne possono scrivere un altro, tutti lo hanno criticato ma nessuno l'ha mai riscritto, noi non c'eravamo né al governo centrale né a quello locale, quindi non abbiamo responsabilità in questo. Abbiamo detto in questa campagna elettorale che siccome i disastri e i buchi sono notevoli, ma lo hanno detto tutto, manca addirittura un bilancio, non verrà approvato da questa legislatura, abbiamo detto di tutto e di più credo, abbiamo detto al primo momento non sappiamo i disastri, quindi la prima cosa da fare è mettere in sicurezza il pronto soccorso, come minimo, allora nel senso il pronto soccorso deve funzionare perché dobbiamo mettere in sicurezza chi ci arriva, almeno in sicurezza e poi con un viaggio della speranza, magari sperando che possa funzionare un 118, portarli laddove c'è qualche ospedale che funziona di più, qualche ospedale che funziona di più dopo aver accentrato tutto il cardarello abbiamo fatto scoppiare anche il cardarello, dopo non aver realizzato l'ospedale Covid con 10 milioni di euro dal governo stanziato, perché quelle promesse sono queste, poi questi soldi ci stanno o non ci stanno, sono stati promessi, sono stati stanziati e se sì che fine hanno fatto, ecco perché noi combattiamo un sistema, è un sistema che non è per i cittadini. Quindi una volta fatto questo poi si può pensare a una quattro corsiglia su un'asse di aria importante, un ospedale magari molise centrico che possa in qualche modo raccogliere con i 118 quelli che gli arrivano dai pronto soccorsi messi in sicurezza e magari salvare qualche vita e non aspettare magari qualche cantoniere d'agnone che mentre facciamo le lotte per fargli riavere il posto gli arriva un infarto e non riesce ad arrivare a Campobasso, come è successo a lui, poverino e con la disperazione delle famiglie è successo per altre situazioni. Noi a questo non ci stiamo e lavoreremo in questo senso, credo che sia stato il primo punto programmatico lanciato in questa campagna elettorale. Io vorrei rimanere sull'argomento sanità perché è inutile che ci giriamo intorno, è la criticità delle criticità ed è l'argomento più importante credo di questa campagna elettorale. Qui ho con me il programma operativo 2022-2024 che in estrema sintesi prevede per il Molise un DEA di primo livello a Campobasso, due Spocca, Iserni e Termoli, le malattie tempodipendenti fuori regione, solo per fare qualche esempio, cardiochirurgia al Gemelli e a Chieti e Napoli, l'ictus emorragico, Pescara, Napoli e Neuromed, trasporto su gomma e invece Pescara, trasporto su pala. Questo dice il programma operativo e la considerazione che faccio io è che il paradosso è che in questi anni i servizi sanitari ai molisani sono diminuiti e invece i debiti sono aumentati. Un altro argomento centrale della sanità è il rapporto con i privati, lo sappiamo tutti, si è discusso in questi anni tantissimo, ci sono stati momenti di grandissima frizione. Quello che vi chiedo io è questo, il prossimo Presidente della Regione Molise, che idea di sanità deve avere relativamente al rapporto con i privati? Qual è il ruolo che devono giocare i privati nell'organizzazione sanitaria regionale? Perché per alcuni siamo ostaggio dei privati, per altri invece i privati sono un'eccellenza da valorizzare. Roberto. Allora partiamo dall'idea che questo ha dimostrato come il commissariamento è stato il fallimento della riorganizzazione sanitaria in questa Regione e il Governo nazionale ne ha preso atto, anzi col commissariamento non solo non siamo riusciti a riorganizzare gli ospedali ma abbiamo aumentato il debito pubblico, quindi la prima cosa che va necessariamente eliminato sono i commissari. Come va eliminato quella idea che i piani operativi li faccia l'Agenas, cioè un'agenzia che non appartiene a questa regione che decide per conto nostro senza nemmeno coinvolgere le parti sociali e le parti che i portatori di interesse in questa Regione. Si continuano a fare sta di atriba tra sanità pubblica e privata, forse a qualcuno sfugge che la sanità privata è una parte integrante della sanità pubblica, cioè praticamente i servizi che non ti dà un ospedale, perché tra l'altro pensare di avere un TEA di primo livello e due SPOC significa far chiudere Isernia e far chiudere Termoli, perché questo è quello che vorrebbero i miei competitors come organizzazione sanitaria, cose che io insisto a dire che ci vuole un TEA di secondo livello, perché in un TEA di secondo livello ci saranno anche una serie di patologie che potranno essere curate all'interno dei nostri ospedali pubblici, dove non ci sarà questa possibilità interverranno il privato, quindi il rapporto con il privato non è un rapporto conflittuale, deve essere un rapporto di collaborazione e di integrazione alla carenza di servizi sanitari che abbiamo sul territorio. E aggiungo questo, se noi facciamo lavorare gli ospedali e gli ospedali tornano ad essere eccellenti, così come ipotizziamo, e la stessa sanità privata torna ad essere il fiore all'occhiello di questa regione, non la cenerentola o ci dobbiamo vergognare di avere la sanità privata, tutto questo potrebbe creare mobilità attiva che tutto da guadagnarci per questa regione e non la conflittualità inutile che poi paga d'azio semplicemente il cittadino. Gravito. Allora riparto dal discorso della mobilità attiva, noi abbiamo rischiato e rischiamo di avere i molisani che in un certo periodo dell'anno rischia di non poter ricevere cure perché l'esaurimento del budget non prevede a quel punto di potersi curare, questa è un'anomalia rispetto alla quale continuare a parlare di mobilità attiva senza tenere conto dei problemi che creano sui flussi finanziari della regione purtroppo è una lacuna importante che noi dobbiamo risolvere, questo è quello che è stato detto come centrosinistra riguardo alla contabilità dei privati che non può essere una contabilità regionale ma è una contabilità nazionale, questo permetterebbe di creare un po' di ordine anche nel rapporto con i privati perché vedete il problema principale, inutile girarci intorno, riguarda la rete dell'emergenza urgenza dell'ictus emorragico rispetto alla quale ad oggi noi non possiamo garantire le cure all'interno delle strutture private semplicemente perché la logica vuole che non avendo il pronto soccorso queste strutture noi siamo costretti diciamo così a far trascorrere troppo tempo per poi consentire di curare il paziente. Ecco il motivo per il quale la riorganizzazione deve essere fatta, mica per fare delle contrapposizioni che non servono a nessuno ma semplicemente per garantire che la famosa golden hour sia rispettata ma non per altro perché a quel punto ci rimette la vita il paziente che ha interesse e diritto ad essere curato. Ora detto questo quando si parla quindi del rapporto pubblico privato è come dire sacrosanto ottenere un controllo perché negli anni senza nasconderci con il governo con i governi di centrodestra è stata fatta molta poca attenzione alle attività che i privati hanno operato e qui non bisogna nascondersi, i privati devono fare quello per il quale sono come dire sono arrivati sul nostro territorio, assicurare la specialità e in questo il rapporto sarà sempre garantito purché si rispettino poi quelli che sono gli interessi dei morisani e in generale dei pazienti. Intanto ristabiliamo una verità, è che con il privato in un modo così come dire squilibrato i rapporti ce li hanno avuti i due blocchi, centrodestra e centrosinistra perché si sono rimballati i titolari di queste strutture sia da una parte che da un'altra. Questo ha determinato che in Molise arrivasse il commissario, sui quali tutti siamo d'accordo che se ne devono andare, però tutti dimenticano che i commissari sono arrivati con i governi di centrodestra, sono aumentati ancora di più nei loro nefasti intendimenti con il governo di centrosinistra e poi ancora di centrodestra, quindi rispetto a questa storia noi possiamo dire a viso aperto e testa alta che i danni sono stati combinati e parliamo sempre di questo però è sempre complicato e difficile poi dire quello che noi vogliamo. Anche noi vorremmo tutti ospedali di eccellenza, ma se non si supera il Balduzzi noi non possiamo chiedere assolutamente niente, ma se il Balduzzi nessuno lo cancella di quelli che stanno al governo centrale non spinti in questa direzione da quelli locali non si andrà mai da nessuna parte. Ecco perché noi aspettiamo soluzioni tra virgolette semplici, proprio perché i soldi, il budget può essere pure minimo ma vengono spesi e non mi pare che vengono spesi nel modo che la popolazione lo veda, non ci sono i servizi quindi c'è qualche cosa che non funziona. Dobbiamo andare nelle direzioni più semplici, quelle di eliminare il debito, quelle di eliminare i commissari, di ritornare alla politica e di ritornare al territorio offrendo quel minimo, quel minimo è quello che noi abbiamo detto sperando che le persone capiscano che certamente noi non siamo i nuovi messia, magari a parte i capelli lunghi ma non abbiamo nulla a che fare, magari Toma sarà pure il vice Dio ma non è così, ma certamente rispetto a quello che hanno combinato potremmo fare qualcosa di più onesto. Pasqua. Naturalmente vuole delle risposte precise dai tre candidati alla presidenza della regione, mi riferisco al mondo delle società calcistiche che sono per lo più dilettantistiche qui in Molise a partire dalle tre società principali, Campobasso, Termoli e Vasto Girardi per venire a tutte le altre dall'eccellenza, promozioni prima, seconda, terza categoria e campionati giovanili. Loro ritengono che hanno bisogno di maggiori contributi, contributi che non sono arrivati negli ultimi decenni, anche per ripristinare un budget annuale che dia loro un po' di attenzione ma anche con, soprattutto con erogazioni semplificate delle procedure perché a volte c'è anche troppa burocrazia in tal senso. Le società calcistiche chiedono quindi da parte della regione Molise che vengano dati, vengono elargiti dei contributi non così a pioggia come è avvenuto negli ultimi decenni ma mirati a dare un po' di ossigeno alle stesse società che operano tra mille difficoltà. Partiamo da un principio che fare un campionato di semi professionisti o di serie D ci vogliono veramente molti impegni finanziari e questo in qualche maniera si sa, le società hanno difficoltà, hanno difficoltà ad avere sponsor, hanno difficoltà a volte a tenere anche gli impianti manutenuti perché spesso i comuni stando in difficoltà fanno una specie di convenzione con cui affidano anche gli impianti sportivi alle società. È evidente che c'è una legge che esiste che è quella delle società sportive, bisogna trovare le risorse necessarie per mettere a bilancio e garantire alle società sportive di avere una possibilità di continuare a svolgere quell'attività che non è solo di carattere ludico ma anche di carattere sociale. Questo vale per tutte le società. Quelle di calcio si sa hanno più difficoltà perché i costi sono maggiori. Avere o promettere oggi un'attenzione particolare secondo me è prematuro perché in effetti questa regione sappiamo, dobbiamo verificare quali sono le condizioni finanziarie di questa regione e vedere come attraverso un governo ci sia un decreto ad hoc perché la situazione finanziaria della regione molise è fortemente viziata da quelli che sono i costi della sanità. Quindi da lì si deve partire con un decreto molise che continui a far sì che questa regione possa esistere così come è stato fatto per altre regioni. Sulla base di questo andrà a riprogrammare questi fondi però diciamo che oggi già a livello nazionale per esempio ci sono delle misure che danno delle incendive alle associazioni sportive per poter creare anche gli impianti e questo è fondamentale soprattutto in un territorio come il nostro dove poter dotare di impianti sportivi anche le aree interni in maniera intercomunale tra comuni si creano quei giusti servizi per far sì che anche le aree interne siano come dire fornite e possano i ragazzi divertirsi. Ecco non ritiene Gravina che ci serva un po' un'attenzione particolare soprattutto verso i piccoli centri perché il Molise è tutto sommato a di là dei dieci centri più importanti da Venafra, Termoli, Campobasso, Isernia, Agnone i piccoli centri dove spesso le società calcistiche rappresentano l'unico punto di riferimento e di socializzazione quindi venire incontro sarebbe davvero un toccasana. Siamo seri, in campagna elettorale è facile promettere la luna quindi promettere le soluzioni in tutti i settori, figuriamoci, stiamo parlando dei problemi che attanagliano questa regione in riferimento alle infrastrutture, alla sanità, allo sviluppo e quindi sarebbe troppo semplice dirle sì va bene, ci adoperiamo in tal senso. Una cosa, una riflessione la dobbiamo fare. Intanto sarebbe utile, utilissimo perché poi non è soltanto il calcio, il calcio è una è una parte di tutto lo sport molisano e sapete quando ci sono delle manifestazioni scopriamo delle realtà che sono davvero importanti per la socialità, per l'inclusione per cui come il calcio anche altri sport hanno bisogno di attenzione. Di sicuro è stato fatto qualcosa, secondo me in modo sbagliato, non tenendo conto che alcuni impianti potevano essere baricentrici quindi evitare la proliferazione di impianti rispetto ai quali poi si sono voluti accontentare desiderata dei vari comuni facendo purtroppo una campagna elettorale o meglio esattamente un collegamento con le realtà molto elettorale ma poi poco concreto nella realtà, nel senso che la manutenzione e la gestione la si fa innanzitutto avendo le persone che poi vivono quegli impianti e qui ci sarebbe da fare una riflessione soprattutto con gli imprenditori perché se si continua e si aumenta la defiscalizzazione degli investimenti nelle strutture sportive, nelle società sportive, questo sarebbe davvero un grande aiuto anche per la parte pubblica che ha la disperata ricerca di risorse e quindi si fa molta fatica a poter garantire oggi un'erogazione finanziaria. Di sicuro quella che è stata fatta anche durante il Covid ha lasciato a bocca asciutta moltissime società perché le procedure erano appunto come lei ricordava macchinose, il Mosem non ha funzionato, la piattaforma appunto che consentiva l'accesso a queste forme di credito e tanto denaro è rientrato in una cassa regionale perché non impiegato. Non da meno l'attenzione anche che deve essere rivolta agli eventi di spicco che si possono organizzare sul territorio non solo a scopo sportivo ma con la forte ricaduta turistica essendo il nostro territorio particolarmente ricco di cultura, di arte, di bellezze naturali creando le opportunità per far sapere che il Molise esiste. Beh allora a me piacerebbe ma so che è impossibile ritornare a quando ero ragazzo che quando si andava a giocare a calcio non c'era nemmeno lo spogliatoio insomma, non voglio dire ma adesso ci sta, si fanno la doccia e quindi mi piacerebbe ritornare a uno sport non solo quello calcistico come diceva il collega ma a quello di tanti altri sport che hanno un forte impatto insomma, hanno un grosso numero come la palla a volo ma atletica leggera eccetera eccetera. Ma io darei sicuramente un aiuto a quelli che sono i vivai perché sono interessato ai ragazzini insomma a tirarli su ma che non devono imparare solo sport, devono imparare la vita perché noi stiamo costruendo tanti calciatori professionisti, stiamo costruendo tanti youtuber che fanno disastri, opinion leader che fanno disastri e non stiamo più realizzando professionisti seri a partire dai medici, i medici che non ce ne stanno e quei pochi che ce ne stanno non rispondono come dire alle richieste di aiuto dei cittadini che stanno morendo perché vogliono i salari più grandi ma perché sono pochi. Allora forse facciamo una politica in questa direzione, ritornando come dire a far sano sport perché oggi si può fare di poi anche lavare senza problemi ma di pensare che forse lo studio è più importante per dare alla società un futuro. Ecco i medici ritornare e magari perché no nel frattempo utilizzare quegli ossa e quegli infermieri che sono stati tanto utilizzati nel periodo covid e oggi lasciati per strada. Lo dico in questa fase, non l'ho detto nella domanda di prima perché il tempo era tiranno però in qualche modo il messaggio credo che debba arrivare. Genitori, fate in modo che i vostri figli facciano tanto sport, che imparino che lo sport è gratuito e lo si può fare e noi aiuteremo sicuramente i centri di avviamento dello sport ma la prima cosa da fare è capire nella vita cosa si può fare realmente per aiutare il prossimo e se stessi perché prima o poi non ti aiuterà più nessuno. Ecco io vorrei parlare con voi di un'altra grande criticità del Molise che è lo spopolamento ormai è un fenomeno in stato sempre più avanzato, riguarda, questo bisogna dirlo a chi ci segue da casa, tutto il mezzogiorno, riguarda anche altre regioni, anche regioni del nord dell'Italia. Ecco, cosa si può fare per, non dico invertire il trend ma rallentare questo trend che condannerebbe il Molise a morire presto perché non ci sarebbero più gli abitanti e lo dico in maniera molto critica negli ultimi cinque anni il Consiglio regionale del Molise non ha dedicato neanche una seduta a questo argomento così importante. A mio modestissimo parere dovevano esserci molte sedute dedicate a questo argomento perché anche salvare un solo giovane, un solo molisano che va via avrebbe significato qualcosa di importante. Ecco, allora cosa proponete per tentare di frenare lo spopolamento? Lo spopolamento si frena nella misura in cui si crea il posto di lavoro, se noi non creiamo posti di lavoro i giovani sono costretti necessariamente ad andare via, come i giovani sono costretti ad andare via se non hanno la possibilità di rimanere qui in Molise per studiare. Quindi potenziamento dell'università in termini di quelli che saranno i corsi di laurea, quindi offerta formativa tale da creare professionisti e future classi dirigenti e soprattutto incentivare quelle aree consortili che oggi ci sono delle misure tipo le zone economiche speciali che possono essere intese anche come zone economiche speciali montane dove in qualche maniera si diventa attrattiva e si ha la possibilità di implementare quelle che sono le piccole e medie imprese e creare posti di lavoro. È evidente che la politica dovrà essere vicina a queste imprese, dovrà contribuire a creare le infrastrutture necessarie per mettere in rete i consorzi industriali di Termoli, quello di Boiano, quello di Pettoranello, quello di Pozzilli, quello di Venafro, perché attraverso questa mobilità, ma soprattutto attraverso questa grande operazione di restyling dei nostri consorsi e con l'attenzione verso le cosiddette agroalimentari che sono quelle zone a ridosso delle aree montane che producono prodotti di qualità ma che i costi non sono sostenibili e che in qualche maniera la politica deve fare in modo che loro possano efficientare gli impianti, possono trovare la linea di credito per creare quelle per infrastrutture tipo pannelli fotovoltaici per abbattere i costi di produzione e quindi energia alternativa che possono essere anche dalle biomasse per i settori agroalimentari. Creando tutto questo e mettendo in sinergia questi consorsi è evidente che diventano attrattivi e si viene ad investire in queste aree e si creano posti di lavoro. A quel punto va da sé che i nostri giovani e le nostre metri che andremo a formare rimarranno qui per contribuire allo sviluppo di questa regione. L'attrattività si misura innanzitutto con la credibilità di una classe politica e istituzionale. È chiaro che qualsiasi imprenditore che intende oggi investire nel nostro territorio deve avere interlocutori seri e soprattutto non dobbiamo fare in modo che ciò che vada fuori, quindi l'immagine di questa regione sia un'immagine negativa come purtroppo abbiamo registrato in un periodo di tempo così lungo dove davvero l'imprenditore purtroppo da noi è sempre stato abituato a ricevere tante richieste dalla politica, quando invece la politica dovrebbe fare il contrario, cioè mettersi a disposizione dell'imprenditore, soprattutto di quello nuovo e chiedere cosa occorre all'imprenditore, non viceversa perché sappiamo che laddove la politica entra nell'impresa, purtroppo l'impresa muore, lo dimostrano i disastri che abbiamo avuto sullo zucchero, sul tessile e anche sulla filiera vicola. Detto questo noi chiediamo nel programma, scriviamo o meglio una parte importante legata all'innovazione perché sappiamo e riteniamo che soprattutto anche per gli imprenditori esistenti perché vedete, lei diceva bene oggi, noi non dobbiamo invertire una tendenza, dobbiamo innanzitutto partire a rallentare quella tendenza che è una tendenza italiana dove da noi unita con la crisi demografica di fatto comporta un problema serio per la sopravvivenza della nostra regione e quindi cercare di investire nell'innovazione significa mettere nelle condizioni l'imprenditore dal più piccolo a quello medio, perché il più grande per fortuna ha la forza di investire in questo settore, di poter agganciare quelle che sono le opportunità e vi garantisco che tra l'altro girando il territorio sono tanti gli esempi di giovani che riescono a lavorare nei borghi o nei territori di appartenenza con lo smart working perché è stata una delle cose positive del Covid che consente oggi a ragazzi di per esempio di Trivento piuttosto che di alcune zone del Basso Molise di poter lavorare a casa senza doversi trasferire a Milano piuttosto che in altre regioni e su questo riteniamo che si possa davvero fare tanto. Izzo, prego. Non sono abituato a sparare sulla croce rossa ma in questo caso sarebbe anche opportuno perché se siamo a questa situazione, perché evidentemente negli ultimi 30 anni in modo particolare in questa regione non c'è stata una politica in tal senso, quindi se c'è una spopolazione, io sono un allontanamento da questa realtà di tanti nostri concittadini un motivo ci sarà. Prima di tutto è l'incapacità della classe politica a porre in essere provvedimenti all'altezza, l'altro è perché si è brigato e si è lavorato molto per andare incontro a una macro regione e quindi allontanando quelli che erano gli obiettivi dei candidati presidenti per tenere invece in piedi questa regione e poi perché si continua ancora a parlare di come fermare le fronte dei giovani e non pensare che i giovani sono già andati via, qualcuno è rimasto con coraggio ma qua sono rimasti i meno giovani e i vecchi quindi io direi di cominciare a fare delle politiche per tutti e noi su questo abbiamo lavorato, abbiamo lavorato da sotto perché il suo grido di allarme, il suo dolore lo abbiamo fatto nostro con quell'idea programmatica che è quel famoso assessorato al ritorno e al blocco di chi deve scappare, quindi intelligenze ma non sulle giovani, le intelligenze oggi fuori ce ne stanno tanti di tutte le età che devono ritornare in questo assessorato e in una cabina di regia, metterli insieme per progettare quell'idea che noi abbiamo del rilancio che si chiama Progetto Molise, non il partito politico ma un'idea progettuale che darà la dignità a tutti i comuni di essere parte di questo territorio, richiamare quelli che stanno fuori insieme a quest'altro in questa cabina, ragionare insieme al politico e realizzare non dicendo quello che il politico fa, realizzare insieme le cose perché le intelligenze non hanno bisogno di uno sciocco come noi che gli dica cosa fare, magari un indirizzo sì, ma loro certamente lo sanno fare bene e anche meglio, ma gli dobbiamo dare la possibilità di stare qui e di lavorare seriamente. Una domanda che rivolgo a tutti e tre, una volta eletto Presidente della Regione nei primi 100 giorni di mandato, quali saranno le sue prime mosse? Iniziamo da Francesco Roberto. L'ho già detto, noi dobbiamo superare il commissariamento della sanità perché il bilancio regionale è gravato da questa situazione sanitaria, con il Governo centrale discutere come far sì che la nostra sanità torni ad essere una sanità sancita dalla Costituzione e che i nostri cittadini abbiano pari diritti e sulla base di quello creare le condizioni di una riorganizzazione ospedaliera e della sanità sul territorio in maniera seria, precisa, puntuale, senza più perdere tempo. Sulla base di questo puoi gettare le basi, quelle che saranno le progettazioni necessarie delle infrastrutture perché da quando si decide di progettare a quando si decide di realizzare le opere passano troppo tempo. Oggi c'è anche un codice degli appatti che consente tra l'altro di salvaguardare le nostre imprese locali, quindi in qualche maniera andiamo verso quella direzione perché siamo una regione piccola, facilmente rischiamo di essere fagocitati dalle regioni più grandi, ma è assolutamente necessario innanzitutto ripartire dall'aspetto sanitario. Non c'è più tempo, tempo scaduto, quindi la regione dovrà dialogare col Governo nazionale per vedere come risolvere questo problema del bilancio di questa regione. è stato fatto anche con comuni tipo Roma, che in situazione di dissesto sono stati fatti il decreto Roma, così come è stato fatto il decreto Calabria. Ecco, un provvedimento a noi ci interessa per far sì che possiamo riassumere personale e quindi riorganizzare l'ente regionale, tornare a motivare i dipendenti regionali perché sono gravati da forte criticità di essere in pochi e quindi far sì che poi la macchina amministrativa si muova subito, rapido e dia risposte a tutti coloro che in qualche maniera, gli imprenditori, le associazioni. Voi pensate che nel sociale ci sono tanti fondi che ancora non vengono elargiti con una forte difficoltà da parte di queste cooperative di anticipare economicamente i servizi. Gravina? Ma intanto approvare il bilancio della regione perché non me ne voglia il collega Roberti ma tutta la giunta che è candidata con lui non è riuscita ad approvare il bilancio con una grave situazione finanziaria della regione dove i fornitori non sono ancora pagati, dove c'è tutto un mondo che è in attesa, compreso quello di cui si parlava del sociale, di ricevere i pagamenti e questo la dice lunga su purtroppo una situazione molto molto grave rispetto alla quale alle promesse della campagna elettorale e delle politiche ancora aspettiamo i fatti perché i fatti non sono certo il decreto spalma debiti che è una manovra per non far fare brutta figura anche se purtroppo l'hanno fatta lo stesso perché il bilancio non si è approvato che è appunto quella di approvare il bilancio spalmando le rate del debito. A questo aggiungo e condivido sicuramente l'intenzione di rimpinguare il personale che è poco e che senza una macchina amministrativa efficiente non si possono ottenere risultati e poi fare un'attenta verifica di quello che è lo stato dell'arte perché abbiamo ancora ritardi gravi sul nuovo POR rispetto al quale diciamo che ancora considerando che il ciclo di programmazione è il ciclo di programmazione 2020-2027 sono già tre anni che praticamente ancora non caliamo sul territorio quelle che sono le risorse del POR che sono oltre un miliardo e mezzo di euro compresi i fondi FSC che davvero questo deve essere ben chiaro non possiamo continuare a perdere tempo nelle decisioni che la politica alimenta con una contrapposizione con interessi di piccolo cabotaggio. Noi dobbiamo essere bravi a fare in modo che la spesa pubblica sia ovviamente una spesa efficiente e che soprattutto dia ricchezza al territorio perché da sindaco sono come dire testimone dei ritardi in mani della politica se come sindaco di Campobasso programmo un piano di investimenti per le scuole che come dire risale a finanziamenti del 2000-2006. Izzo se dovesse essere eletto presidente nei primi 100 giorni quali saranno le sue prime mosse? Beh nei primi 100 giorni ci sarebbe un mandato preciso quello di cattura tra virgolette ma anche senza virgolette per quelli che hanno portato il Molise in questa condizione. Quindi magari gli daremo gli arresti domiciliari così non fanno più danni. Da questo partiremo subito per vedere cosa si può fare per riaprire questi pronto soccorsi in modo particolare quello di Venafro che ahimè pur gravando in una zona dove la sanità privata è forte ma nessuno si è mai segnato di dare un'alternativa nel privato di quel pronto soccorso sempre l'ISP. All'assunzione immediata degli osso e degli infermieri visto in attesa che arrivino i nuovi calciatori a fare anche i medici queste sono quelle operazioni importantissime che vanno nella direzione della cabina di energia dove tutti devono andare a lavorare dove ci saranno tutti gli ordini anche professionali per capire come rimettere su il Molise e magari in quel famoso progetto dove c'è molto di turismo e cultura se noi avessimo la possibilità di avere i 24 milioni di euro che ha avuto la giunta uscente non che il vicepresidente Cotugno allora magari da lì potremmo ripartire per far lavorare tutta una serie di persone di riportare grandi avvenimenti nel Molise perché no anche quelli sportivi perché lì sì dobbiamo investire sui grandi avvenimenti piuttosto che nelle società che se ci riescono lo fanno altrimenti noi stiamo a sostenere i ragazzini. Insomma è tutta una cosa che deve essere assolutamente rimessa in piedi non è facile ovviamente ma noi con questa idea che abbiamo di dare dignità a tutti i comuni molisani in un grosso contenitore che funziona solo noi faremo un turismo di ritorno 360 giorni all'anno perché costruito da tutte quelle menti che sono state abbandonate all'estero e qui penalizzate una politica che voleva nelle cabine di regie loro soltanto quelli che erano i trombati dalla politica piuttosto di quelli capaci. Diamo veramente una dignità a queste regioni e ai giovani che ci stanno. Io vorrei parlare della vostra squadra di governo qualora i molisani dovessero darvi le chiavi di questa regione perché Tom è stato più volte definito un uomo solo al comando, Frattura è stato seduto e poi abbandonato e tutte le responsabilità di cui la legislatura sono ricadute sulla sua persona. Avete parlato di tante criticità e di tanti problemi del Molise io credo che una sola persona pur lavorando H24 non riuscirebbe a fronteggiare tutte queste grandi criticità. Deve attorniarsi di una squadra capace, forte. Avete parlato del lavoro? Ecco io credo che ad esempio per l'assessorato al lavoro servirebbe un luminare perché anche creare un solo posto di lavoro in questa regione sarebbe salvifico. Ecco la domanda allora è questa. Con quale criterio sceglierete gli assessori, gli uomini che saranno al vostro fianco per risolvere in cinque anni i tanti problemi che questa regione ha? Innanzitutto per il discorso del lavoro ricordiamo che proprio con la soppressione delle province non c'è nemmeno più il centro per l'impiego perché poi trasferito alla regione senza personale questo è il danno che si fa quando la politica pensa di riorganizzare a livello nazionale le sorti delle regioni. Quindi sulla base di questo il 27 di giugno saranno i cittadini che con il loro voto decideranno quale sarà la squadra di governo e la squadra di governo per quello che mi riguarda sarà scelta sulla base della capacità dell'esperienza ma soprattutto della credibilità. Ossia chi collaborerà con me sanno e lo vedono i miei assessori sul comune di Termo che abbiamo raggiunto traguardi che in quattro anni di cui due di covid nessuno se li poteva ipotizzare. Con me c'è la meritocrazia che ha voglia di lavorare e che ha dimostrato di lavorare e che ha dimostrato di saper fare qualcosa. Non esiste il concetto del Cencelli o di chi prende più voti assolutissimamente. Quindi la mia squadra sarà una squadra basata con coerenza ma all'interno di quello che sarà il programma elettorale che abbiamo messo in campo e quindi che in qualche maniera quella sarà la nostra bussola per andare dritti verso quella direzione. Se ne può dire quello che si vuole della mia squadra che sono gli uscenti. Se sparta piange Atene non ride. Vorrei ricordare chi non è andato al Balduzzi ed è presente in qualche squadra che oggi compete. Chi è stato consulente di questa regione e che oggi si lamenta dei debiti fatti. Se questo è il risultato da consulenti figuriamoci da politici pagati con i soldi dei molisani. Quindi di fronte alla situazione del genere non c'è nessun problema di governare né ci sarà quei teatrini che abbiamo visto finora in tutte le situazioni perché anche col governo Frattura non credo che sia tanto stato diverso da quello che abbiamo visto oggi con Tom. È evidente che quello che sono abituato a fare io è una squadra dove ci si chiarisce, dove ci si confronta e si escono tutti convinti con le decisioni da prendere. Gravino. Premesso che qui non dobbiamo fare la difesa d'ufficio sempre e comunque. Se errori ci sono stati durante una gestione, quella del centro-sinistra, non bisogna nascondersi. Però lo dico in tutta onestà. Quello che abbiamo visto nell'ultimo periodo, nell'ultimo quinquennio dove, almeno questo non lo dico io, ma lo dicono i fatti, dove gli assessori tra l'altro hanno fatto di tutto e di più pur di assecondare il desiderata del Presidente che oggi hanno scaricato. Ricordo le dimissioni di tutta la Giunta regionale per tirare fuori due consiglieri scomodi, nominando un assessore che era il consigliere del Presidente. Per 12 giorni siamo finiti sulle cronache nazionali. Ricordo anche il bellissimo caso delle politiche sociali. Oggi si parla di attenzione alle politiche sociali, dove l'amministrazione precedente ha cambiato tre assessori, sappiamo con quali problemi ha causato al mondo del terzo settore, e l'ultima delle quali addirittura firma la mattina la mozione di sfiducia al Governo Toma e il pomeriggio accetta l'incarico di assessore. Quindi fermo questo e fermo quindi che ogni tanto dobbiamo ricordare da dove arriviamo e non mi risulta che questi teatrini siano stati fatti nel passato. Io non invidio il collega da questo punto di vista perché la Giunta uscente è tutta lì, pronta chiaramente a far valere, a rivendicare le proprie ragioni e lo dimostrano anche un po' di dichiarazioni, basti pensare quello che la Lega ogni giorno ricorda sul fallimento del Governo Toma, quindi andando sempre in un muro contro muro. Noi, a differenza di quello che è stato detto, non mi risulta che ci siano grandi numeri rispetto agli uscenti. Sicuramente ci sono persone di esperienza che hanno fatto parte anche della precedente amministrazione e mi risulta che non ci sia stato il dileggio delle istituzioni che oggi abbiamo vissuto e viggerà il principio sicuramente della competenza, non escludendone anche quello del ricorso ad un assessorato esterno laddove sia richiesto per le competenze. Lo dimostra anche quello che è stato fatto in alcune cose di campo basso con un'aggiunta corta che ha fatto ricorso anche agli esterni laddove veniva richiesta competenza specifica. Izzu? Beh, da parte nostra c'è già una risposta importante, insomma, l'aggiunta sarà affiancata da questo organismo, in modo particolare da questa grande regia dove dovranno andare le grandi menti per ragionare insieme all'aggiunta. Quindi già qui noi partiamo da un contenitore importantissimo, innovativo assolutamente. L'aggiunta sarà 5, su questo non ci sono dubbi e avevamo dedicato il 50% agli esterni, ma siccome dei 5, 1 non lo possiamo dividere in 2, facciamo il 60, quindi diamo 3 esterni e 2 interni. Ai 3 esterni ho già detto in varie occasioni il rinnovo, ai due candidati alla governanza della regione, Roberto e Gravino, un posto glielo do sicuramente perché hanno dimostrato che da tecnici sono quasi, ma sono vittime sacrificali di due sistemi che per fortuna, lo dicono loro, io non lo devo dire più, hanno fatto disastri sia l'uno che l'altro. Però a loro voglio riconoscere un'onestà intellettuale a metà perché potevano fare a meno di candidarsi in queste coalizioni sapendo chi si portavano dietro, però io sono magnanime, sono anche un mecenate, quindi ho bisogno di dare spazio a chi ha capacità. Però loro dovevano fare la promessa di lasciare e abbandonare i loro sistemi politici partidici è quello che hanno fatto finora perché potrebbero essere realmente utili e non è uno scherzo, io sarei anche pronto a sottoscrivere un accordo in tal senso, però devono fare a mente, devono fare a mente e le accuse sono chiare, prima le facevamo noi, adesso se le fanno loro ma perché è così e ne fatti, quindi rinnovare le loro giunte sarebbe, come dire, oltremodo essere cattivi e io nella giunta quelli cattivi non li voglio, siccome ho visto che cattivi non sono, ma hanno fatto un sacco di errori, se riescono a ritornare nell'alveo in queste ultime decisioni e abbiurare il passato e dire che loro si ritirano dalla carica perché faranno l'assessore esterno, allora noi potremmo lavorare con la cabina di regia, con gli assessori nostri, con quelli esterni e dare al monese oltretti. Ci siamo, siamo giunti all'appello finale, per ora toccherà loro convincere gli indecisi, l'altra volta non so quanti hanno votato, i monese 140 o 145 mila mi pare, io credo che l'assenzionismo non ci sarà, è un po', lo sento, perché girando un po', soprattutto per i seni dove io vivo, vedo che tutti sono stati contattati, quindi c'è stato un gioco al massacro da parte di tutti i candidati, di convincere l'elettorato a votare per lui e poi alla fine saranno i morisani a decidere se premiare Roberti, Gravina o Izzo, noi naturalmente lo faremo lunedì a partire dalle ore 15, caro Pierluigi, quando faremo un lungo non stop con un grande spiegamento di forze per far sì che i morisani siano proprio lì in tempo reale ad assistere, faremo anche qualche prima proiezione, questo possiamo anticiparlo e quindi intorno alle 16 possiamo già dare una prima proiezione di chi è in vantaggio rispetto agli altri competitor. Roberti, lei ha due minuti per convincere i morisani a votarla. Partiamo da un discorso che andare a votare è più che un diritto, è un dovere oggi, è un dovere di partecipare a questa campagna elettorale, di far sì che la regione molise possa uscire dalle secche in cui si trova oggi, che ci sono stati fatti errori del passato da non poter dire che ciò non sia avvenuto ma che comunque con la buona volontà che hanno i morisani, con la capacità di una nuova classe politica perché poi finalmente oggi sono candidati gli amministratori, noi tecnici esterni che hanno già dimostrato poi i limiti, gli amministratori quelli che conoscono le criticità sul territorio, quello che sanno quali sono le esigenze dei cittadini e quindi di fare in modo che ci sia una buona e sana politica, una politica che ci deve vedere tutti coinvolti ma ci deve vedere coinvolti non solo per il futuro di questa regione ma anche per garantire un futuro ai tanti giovani che in questo momento vivono una sorta di incertezza, quindi in qualche maniera dobbiamo essere i primi a dare il buon esempio perché comunque sia la politica se fatta nell'interesse comune è una delle forme di carità cristiana più importante che c'è e quindi la partecipazione dimostra non solo di avere una regione che in qualche modo i cittadini hanno un senso civico, un ma anche di dimostrare che la politica può essere fatta senza insulti, senza denigrare l'avversario ma che può essere fatta nella condivisione anche con le minoranze perché poi alla fin fine quel che conta è fare scelte che vanno nell'interesse e nella direzione di un benessere collettivo e quindi nella direzione e nell'interesse di questa regione che abbiamo fatto di tutto per avere l'autonomia dall'Abruzzo. Non vedo perché dobbiamo rischiare di perdere questa autonomia e quindi buon voto a tutti, votate bene, votate con coscienza e andiamo a fare un nuovo governo regionale. L'appello finale di Roberto Gravina. La politica so bene che ha dato dei pessimi esempi, noi siamo qui e chiaramente ci candidiamo a fare politica, io personalmente sono nove anni che sono in politica, cinque anni all'opposizione in Consiglio Comunale, quattro anni ho l'onore e l'onore di guidare la città capoluogo ed è stato sofferto il dover lasciare idealmente il comune capoluogo perché credo e crediamo di aver dato un'immagine nuova al modo di fare e al modo di governare, a partire quindi dalla serietà e dalla capacità. È quello che vogliamo proporre per la guida della Regione Molise con la comprensione dello Stato in cui ci troviamo e soprattutto della sfiducia che molti hanno. Però spesso e volentieri ricordo che i cambiamenti si possono ottenere soltanto cambiando le persone che hanno causato i problemi. E noi riteniamo che l'unico modo per ottenere un cambiamento sia quello di cambiare le persone perché sono coloro che poi possono fare la differenza, soprattutto con un programma unito, coeso e condiviso tra le parti, si può davvero invertire una tendenza e dare una nuova speranza alla Regione Molise. Quindi mi rivolgo soprattutto a coloro che sono indecisi se non andare a votare, devo dire che chiaramente in questi giorni stiamo cercando di trasmettere questo interesse alla politica e chiaramente questo significa che quando incontriamo le persone il fatto che ci ascoltino già è un grande successo. E quindi speriamo davvero che coloro che sono indecisi in questa campagna elettorale si siano fatti un'idea tra il vecchio e il nuovo, tra la speranza di vedere un cambiamento e la certezza invece di ritrovarsi praticamente la stessa classe dirigente. Consapevoli di questo vi chiediamo quindi di dare fiducia a quella che è l'Alleanza progressista e quindi a votare per la coalizione guidata dal sottoscritto. Izzo, convienca i molisani a votarla? Beh, intanto non capirei perché votare è chi ha fatto i disastri, quindi poi voglio dire, ci rimaniamo noi, possiamo piacere o no, possiamo essere simpatici ma certo non additati da quelli che hanno fatto i mostri. Non abbiamo avuto il tempo ma non c'erano nemmeno le intenzioni di chiedere il voto a nessuno perché non ci piace chiedere il voto, le persone devono essere libere e non avevamo il tempo perché siamo ritornati su tutti i luoghi dei disastri, abbiamo fatto tutte le fabbriche chiuse, abbiamo fatto la viabilità che è quella che è, abbiamo fatto l'ambiente che è quello che è, abbiamo fatto gli ospedali che è quelli che sono, insomma, fino a ieri questo l'abbiamo fatto. Quindi da lì si riparte, da lì c'è sicuramente un aumento di chi andrà a votare, diciamo quelli che ieri non andavano, molti andranno a votare, ma certamente questi non potranno ritornare a votare dopo tanti anni che non l'hanno fatto perché di colpo voglio dire vanno a dare il consenso a quelli che i disastri li hanno combinati. Quindi io lo dico per l'ennesima volta ma con una convinzione che poi credo che sia la stessa che si stanno facendo le persone nelle famiglie, nelle case, poi magari non lo dicono, lo dicono timidamente. Il 50% che non va a votare, nessuno ha mai fatto una legge per invalidare un'elezione con meno del 50% degli abitanti. Allora se tanto mi da tanto significa perciò che non si va a votare, perché nessuno ha più fiducia di chi continua a reggere questi esulti. Se la metà di quel 50% diventa il 25% e va a votare, ovviamente abbandona chi li ha abbandonati e darà consenso a noi, a loro siamo stati sempre vicini, significa diventare il più grande partito della regione e quei sogni che qualcuno dice, quelle vanità eccetera eccetera, non rimarranno forse carta a straccia ma rimarranno realtà perché un grande partito potrà governare e perché no con la cabina di regie e con gli assessori esterni. Bene, abbiamo ascoltato il faccia a faccia tra i tre candidati alla presidenza e io li ringrazio per essere qui con noi, abbiamo dato lo spazio anche nelle precedenti settimane ognuno 45 minuti cada uno per consigliere a tutti di conoscere, esprimere il proprio programma, esporre il loro programma, le loro idee e far capire a Molisani anche di che pasta sono fatti questi tre personaggi che naturalmente si contenderanno all'elettorato molisano. È l'ultima tornata elettorale fino alla fine dell'anno perché dopo le elezioni regionali in Lombardia, Friuli e Lazio il Molise è la quarta regione che concluderà questo ciclo di elezioni, poi il prossimo anno ci saranno le europee e le comunali di Campobasso. Io e di Termoli, anche di Termoli, giusto? Vogliamo ringraziarli tutti e tre, facciamo loro in bocca al lupo e poi naturalmente ti do un minutino per dire un po' lunedì che cosa faremo. Sì, intanto speriamo che i Molisani non vadano troppo al mare domenica e decidano di passare magari prima per le urne. Ringrazio tutti quanti per la presenza. Sono pure perché le previsioni portano domenica e lunedì il tempo un po' incerto. Vi ringrazio e vi avremo sicuramente ospiti nel corso della nostra lunga diretta di lunedì, lo speciale elezioni che avrà inizio alle 15, andrà avanti fino a quando non ci sarà il dato definitivo, il dato chiaro che eleggerà il nuovo presidente della regione e spero di avervi in diretta dei nostri studi qui a Campobasso, oppure collegati con le nostre postazioni mobili. Ne abbiamo Pasquale diverse, sia su Isernia, su Campobasso e su Termoli, quindi cercheremo di coprire tutto il territorio. In campo ci sarà tutta la nostra squadra Pasquale, speriamo di poter fare un buon lavoro, di poter fornire un servizio e Molisani. Bene, grazie a Roberti, Gravina e Dizio. Tra qualche minuto andrò anche l'ultimo spezzone possiamo dirlo di questa tornata elettorale perché mancano cinque esponenti politici delle cinque liste delle coalizioni che appoggiano i candidati a Presidente, fra cui saranno presenti anche gli esponenti dei tre, perché avete anche voi la vostra lista e quindi avremo qui tra poco nei nostri studi anche tre vostri esponenti referenti politici che diranno la loro. Grazie di nuovo agli ospiti, grazie a Pierluigi Boragine, pubblicità e poi seconda parte di Conto alla Rovescia. Eccoci alla seconda parte di Conto alla Rovescia dopo il faccia a faccia dei candidati Presidenti. In questa seconda parte di Conto alla Rovescia abbiamo gli ultimi cinque esponenti delle 14 coalizioni che si presenteranno alle prossime regionali del 25 e 26 giugno. Abbiamo effettuato un regolare sorteggio quindi parlerà per primo chi ha estratto il numero uno dalla scheda. Allora passo subito a presentarmi i miei graditi ospiti. Piero Neri di Alleanza Verdi e Sinistra Alternativa. Stefano Sabatini, referente dei coordinatori, Roberti Presidente e noi moderati. Nicola Lanza, io non voto i soliti noti. Paolo Manuele per Gradina Presidente, Progresso Molise e Patrizia Manzo per il Movimento 5 Stelle. Grazie a tutti. Prima domanda per tutti. Allora come è andata questa campagna elettorale secondo lei Neri? Una campagna elettorale basata sui temi. Noi abbiamo lavorato molto su questo e l'aspetto principale che vorrei sottolineare è il fatto che si è... A proposito ognuno ha due minuti quindi aspettiamo che parte il countdown per correttezza perché allora prego la regia di far partire il countdown. Ecco qui prego. Dicevo che l'aspetto principale da sottolineare è che si è costruita una coalizione unita unita sui programmi, sui temi e soprattutto sull'idea di Molise che vogliamo portare avanti in caso di vittoria. È stata una campagna elettorale come detto basata su un confronto e su una partecipazione delle persone e degli attori locali su temi specifici. Noi abbiamo lavorato molto sul tema della sanità perché come Europa Verde abbiamo realizzato nel corso di questo anno parecchi incontri con i nostri iscritti e con gli operatori del settore. Abbiamo puntato molto sul turismo sostenibile come economia sostenibile da sviluppare in Molise perché riteniamo che nel corso di questi anni si sia perso solo tempo e soprattutto soldi sotto l'aspetto del turismo. E poi altri aspetti fondamentali sono quelli dell'agricoltura, abbiamo anche tra i nostri candidati un espertissimo del settore dell'agricoltura e chiaramente del territorio e dell'ambiente che riteniamo due aspetti importantissimi per il Molise. Per quanto concerne la vostra lista, cosa sperate di ottenere? Una lista omogenea? Sì, è una lista che ha messo insieme Verdi e Sinistra Italiana, è un'alleanza che ha partecipato anche alle scorse elezioni politiche ed è insieme al Movimento 5 Stelle e PD nell'alveo del centro-sinistra che ha superato la soglia del 3% a livello nazionale, quindi potendo contare anche su gruppi parlamentari. In Regione siamo riusciti ad ampliare ancora di più la gestione con la partecipazione del Movimento Equità Territoriale di Pino Aprile ed è un progetto, un laboratorio politico, il Molise, anche per questo aspetto perché l'alternativa progressista, questo è il nome della lista che vede insieme tutti i progressisti, è una ipotesi molto molto probabile anche in vista delle elezioni europee, quindi un bel laboratorio. Vi ritenete soddisfatti di come avete condotto questa campagna? Molto, anche perché noi abbiamo creduto sin da subito anche sulla candidatura del Presidente Gravini. Stefano Sabatini, dopo 30 giorni di campagna elettorale l'umore qual è? Io dico sempre che la campagna elettorale non è solo una corsa al voto e non è solo una competizione, è anche quello ma non solo quello. Allora quello che ci ha colpito è che i temi dei quali si parlava durante la campagna elettorale che hanno suscitato maggiori interesse sono quelli noti. Se c'è un auditorio composto soprattutto da imprenditori, commercianti, professionisti, loro vedi quando ci sono gli incontri in campagna elettorale che la loro espressione cambia e la loro attenzione aumenta, si incrementa quando si parla delle vie di comunicazione e dello sviluppo economico. I cittadini comuni invece mi è sembrato che fossero molto molto interessati e questo è assolutamente comprensibile al tema della sanità e quindi quando hanno ascoltato le proposte ho visto che sono veramente stati molto interessati e anche molto preoccupati perché sappiamo che è un settore che va assolutamente rivoluzionato, va rivisto. Altro motivo di grande interesse da parte degli elettori che abbiamo riscontrato è quello dello spopolamento e quindi molti hanno figli, nipoti, parenti che sono andati a lavorare fuori regione. Quindi tirare le somme di questa campagna elettorale direi che i due temi maggiori, quelli che dovranno affrontare con maggiore decisione il prossimo governo regionale sono lo sviluppo economico con particolare riferimento alle vie di comunicazione e il tema della sanità che va rivisto come settore rivoluzionato a mio avviso totalmente. Nicola Lanza, gli elettori hanno recepito i programmi, i progetti portati avanti dal vostro movimento in questo mese di campagna elettorale. Beh, intanto questo lo capiremo quando andranno a votare. Noi in questo mese abbiamo ripercorsi i luoghi, non tanto i luoghi del disagio di questa regione, i luoghi dove noi siamo stati in questi anni nel Molise, perché a volte chiamati e perché sentivamo il dovere di esserci nei momenti difficili del territorio e delle persone. Quindi siamo stati sotto gli ospedali in questo mese di campagna elettorale, siamo stati nelle fabbriche chiuse, e allora per dirne alcune, lo zuccherificio, l'ex Sam di Boiano, l'ITR, realtà importanti per questo territorio che oggi rappresentano, non rappresentano che capannoni vuoti sostanzialmente. E questo disagio, queste difficoltà, questa realtà così bella che è il nostro territorio, ma che è così gestita male, sia dal centro-destra e sia dal centro-sinistra, ci ha messo nella condizione, da una parte di evidenziare le problematiche e dall'altra di individuare una strada che sia anche economicamente orientata diversamente da quello che vedo è il pensiero unico che regge l'impianto politico del centro-destra e del centro-sinistra, anche nel territorio. Vedo che c'ho qualche secondo. Lo recuperiamo dopo. Va bene. Allora, Paolo Manuele, che giudizio dà questa sua campagna elettorale? Quello della sua lista, qui fa parte. Sì, è stata una campagna elettorale intensa, ovviamente, come per tutte le liste della coalizione, perché abbiamo cercato di riavvicinarci innanzitutto alle persone, perché molto spesso, diciamo, negli ultimi anni, in particolare nelle aree interne, ma anche nei principali luoghi, diciamo, la politica, in maniera un po' trasversale, ecco, ha un po' lasciato i cittadini a loro stessi perché non ci sono state frequentemente delle occasioni di confronto diretto e l'elettorato chiede proprio questo, perché poi, al di là dei problemi che attanagliano il nostro territorio, delle proposte che possono essere diverse, partendo dal principio che, come si suol dire, la bacchetta magica certamente non la possiede nessuno rispetto a problemi molto importanti, se non addirittura, non voglio usare termini forti, ma anche drammatici che vive la nostra regione, le persone hanno bisogno di comprendere e oggi c'è bisogno innanzitutto di riportare la verità, perché le ricette magiche o le illusioni, credo che i molisani non li vogliano più, quindi solo ripartendo da una concretezza della politica verso il territorio, credo che si possa restituire innanzitutto un rapporto corretto ed equilibrato tra elettori e ovviamente i proponenti che sono in questo caso nella campagna elettorale e in particolare credo che ci siano da fare delle operazioni di verità, proprio perché i molisani chiedono e vogliono rispetto, quindi noi ci dovremo trovare ad affrontare, al di là di quello che sarà il governo regionale, cinque anni molto significativi in una regione che purtroppo senza voler fare processi a soggetti singoli, è stato portato a una situazione di default finanziario, quindi sociale, infrastrutturale e soprattutto in termini di crescita. Patrizia Manzo questa volta non sarà della partita, dopo due legislature purtroppo la legge è quella del Movimento 5 Stelle, però credo che il suo successo ottenuto la scorsa volta sia un traguardo irraggiungibile per tutti, circa 7 mila voti, ma è cambiata un po' lo scenario rispetto a cinque anni fa. Il Movimento 5 Stelle cosa spera di ottenere questa volta? Beh, il Movimento 5 Stelle comunque sta portando avanti una campagna elettorale con tantissimo entusiasmo e la presenza in coalizione la farà sentire con determinazione. Mi permetta anche di ringraziare tutti gli attivisti simpatizzanti, i miei colleghi consiglieri uscenti e tutte le candidate e i candidati della lista del Movimento 5 Stelle che si sono spesi tantissimo andando in giro per i comuni e incontrando i cittadini. Il Movimento 5 Stelle fa la sua campagna elettorale tra la gente, a noi proprio piace il confronto con le persone, ovviamente i problemi, è inutile negarlo, sono gli stessi problemi di cinque anni fa, quindi più che altro una campagna elettorale portata avanti con il confronto con i cittadini, con il racconto anche di quello che è stato fatto in questi cinque anni e soprattutto prospettando una visione di sviluppo che abbiamo sempre raccontato e cercato di ottenere proponendo in questi cinque anni di legislatura. Il Movimento 5 Stelle si è cambiato, è cresciuto tantissimo, tant'è che per la prima volta siamo in coalizione, in una coalizione progressista e affrontare le prossime... Il primo esperimento, dopo le sconfitte di Lazio, Lombardia e Friuli, in Molise invece Schlein, Conte, fra due anni stanno cercando una nuova identità politica, un nuovo... Guardi, è una coalizione nata sul territorio, un'alleanza nata sul territorio È una sfida comunque. È soprattutto nata all'interno del Consiglio regionale e soprattutto in questi cinque anni di legislatura. C'è sempre stato un confronto e una condivisione di proposte e di protesta anche, diciamo così, di opposizione in Consiglio regionale con gli esponenti anche dell'alta minoranza del Partito Democratico. E ovviamente c'è stata sempre una condivisione e confronto sul territorio con tutti quelli che adesso hanno deciso di avviare con noi questo nuovo percorso. Ecco, Neri, girando un po' in lungo e in largo la regione Molise, quali sono i temi più caldi che avete riscontrato col contatto diretto con le persone? I problemi sono tantissimi. Al di là della sanità, del popolamento che sono i temi più forti, ma ci sono anche altri problemi, secondo lei? Sì, ma i problemi sono incredibili, nel senso che non è una cosa che scopriamo oggi. Purtroppo nel corso di questi ultimi, possiamo dire anche vent'anni, la politica non è che ha aiutato molto il Molise ad andare avanti. Pensiamo sul problema delle infrastrutture, oltre quello chiaramente conosciuto, quello della sanità. Noi stiamo andando veramente oltre decenni indietro. Abbiamo il percorso Campobasso-Roma che ogni anno aumenta a livello di tempo, di percorrenza. Abbiamo delle strade che sono veramente difficili da percorrere. Campobasso-Termoli ci vuole un'ora e mezza. E questo è un dato di fatto, quindi non è che dobbiamo interrogare la gente per capire quali sono i problemi. Se i comuni dimezzano i loro abitanti, ogni cinque anni qualche problema c'è. E il problema non è che va ricercato in coloro i quali non hanno mai governato questa regione. E noi abbiamo fatto una scelta come alternativa progressista di candidare tutte persone che non hanno mai ricoperto il ruolo di consiglieri regionali. In quel caso che non sono stati mai al governo della regione. Persone che ricoprono nella vita quotidiana incarichi importanti, anche professionisti. Alcuni sindaci anche presenti, alcuni che hanno svolto il ruolo di amministratori negli altri anni. Cercando di coprire il territorio e di tener presente un'esigenza importantissima che il Molise va tutelato soprattutto nelle aree interne. Perché io credo che sia molto importante focalizzare l'attenzione sulle strade. Vedete il problema dell'eliminazione fittizia delle province è un problema che il Molise ha vissuto direttamente. 1.500 chilometri di strade gestite dalla provincia. Io parlo della provincia di Campobasso. La maggior parte sono in completo abbandono. Ma senza soldi non si canta messa. E questo sto dicendo. Quindi si fanno come al solito le riforme a metà. E chi ne subisce le conseguenze sono i territori e soprattutto le aree interne. Speriamo che il governo restituisca dignità alle province perché sembra che ci sia in atto un DL che restituisca proprio bene. Allora Stefano Sabadini, al di là, lei ha accennato nel suo precedente intervento della sanità, dello spopolamento delle aree interne. Quali altri temi avete affrontato con il vostro elettorato? Io ho seguito alcuni candidati, però principalmente ho seguito il candidato presidente della nostra coalizione Francesco Roberti, il quale ha voluto proprio per un suo afflato personale incontrare più persone possibili. Abbiamo riscontrato veramente un grande interesse sulla sua persona, sul suo programma. Dovunque siamo andati abbiamo trovato veramente moltissime, moltissime persone. Questo suo intento alla fine ha trovato accoglimento nella popolazione perché lui si è lasciato andare molte volte anche a manifestazioni di affetto nei confronti dei cittadini, mostrando anche un carattere molto aperto e allo stesso tempo però fermo. Gli altri temi sono i temi, come diceva pure prima giustamente Piero, delle infrastrutture. Quello veramente forse è il tema più sentito. Pare che in Commissione e in Senato già sia stato approvato un progetto di legge per far tornare le province alle loro vecchie funzioni perché il disastro delle strade provinciali sta nella mancanza di cantonieri, di lavoratori e di un ente che gestisca perché le province hanno trovato una via di mezzo nelle passate legislature nazionali che le hanno relegate a un ruolo di prescioglimento. Lo scioglimento e l'estinzione non si è mai verificata e ci troviamo in queste condizioni. Io spero che questo progetto di legge venga approvato perché delle province c'è bisogno. Altri temi della campagna elettorale, dicevamo, ritorno al tema della sanità, soprattutto nei paesi piccoli, le persone sono seriamente preoccupate. Ne parlerà al prossimo intervento. Nella prossima tornata diamo spazio due minuti a tutta l'Ansa. Voi avete affrontato anche molti problemi, soprattutto con le fasce più deboli della popolazione molisana. Le fasce più deboli perché le hanno messe nelle condizioni di diventare fasce deboli. Sentivo prima parlare dei cantonieri. La provincia di Sernia esternalizza i servizi e licenza i cantonieri. Poi noi ci troviamo a fare le battaglie per salvaguardare il lavoro di quei cantonieri che per 20 anni hanno servito all'interno della provincia e poi invece le logiche hanno portato alla esternalizzazione dei servizi. Sembra sempre che in questo territorio le responsabilità non siano mai di nessuno. Questo vale per i cantonieri, vale per gli ultimi licenziati adesso alla Cattolica, che sono cinque persone che da circa un mese sono a casa e quelli che tenevano il servizio di vigilanza alla Cattolica e di back office per quanto riguarda il servizio interno notturno. Il cambio di appalto non ha tutelato i lavoratori che seguivano prima questo servizio e quindi ancora una volta ci troviamo in situazioni che non si mette al centro, all'attenzione l'uomo, la persona, il lavoro, ma logiche che hanno portato a la sanità nella condizione in cui sta tra l'altro e con responsabilità precise ma non dell'ultimo governo perché poi voglio dire 14 anni di commissariamento, commissari nominati dai governi centrali come sarà il prossimo voglio dire in questa situazione ci sono delle responsabilità precise e purtroppo mi trovo a dover come dire riscontrare che ancora oggi si continua a dare forza a chi il disastro... Emanuele le dinamiche del voto delle regionali sono diverse da quelle delle politiche di settembre dove c'è il contatto diretto con l'elettorato, c'è un pressing proprio dei candidati per casa per casa persona per persona, sarà un voto diverso da quelle delle politiche secondo lei? Io credo che oggi appunto un po' tornando e collegandomi al precedente intervento le persone abbiano al di là degli schieramenti e delle liste abbiano bisogno di trovare dei punti di riferimento dei punti di riferimento che sono di carattere territoriale perché ci sono territori che nel corso degli anni sono stati letteralmente abbandonati, questo non è che riguarda solamente una lista, un partito, uno schieramento ma è a 360 gradi e quindi io credo che oggi il cittadino al di là dell'area geografica di riferimento abbia bisogno di avere un interlocutore, un interlocutore che non è quello che può risolvere tutti i problemi ma è quello che parla, che dialoga con le persone e soprattutto si prenda carico delle problematiche che hanno le comunità e i nostri territori, quindi io credo che questo voto sia improntato per l'appunto una condizione, una dinamica che sia un po' diversa dallo schieramento centrodestra, centrosinistra, il partito nazionale che attualmente magari riesce ad attrarre più consensi perché è un'elezione di livello locale, io considero l'elezione regionale come se fosse una grande elezione di un comune più grande del nostro Molise. Ritiene che questa volta il voto possa essere determinante anche nei giovani che per la prima volta si presentano al voto? Sicuramente sì, purtroppo ai giovani noi ci dobbiamo dire con molta serietà e concretezza, bisogna trovare oggi nel 2023 a un giovane le ragioni perché rimanga nel nostro Molise perché se noi ci continuiamo a raccontare la favoletta che il Molise è una regione bella, che ha il mare, i monti, il mare queste cose ce le hanno tante altre regioni d'Italia, un giovane per rimanere in Molise ha bisogno di occupazione quindi il tema serio è che il futuro della nostra regione dipenda necessariamente dalla possibilità che qualcuno abbia occasione di sviluppo nel proprio territorio. Patrizia Manzo, il Movimento 5 Stelle va bene alle politiche, perde consensi in fece alle regionali, alle comunali perché secondo lei c'è questo trend negativo in queste altre competizioni del suo movimento? Beh diciamo che dipende, in regione da noi qui in Molise questo divario tra le politiche e le elezioni quelle più vicine non hanno poi fatto emergere dei divari così imponenti Ma questa è la prima volta che si pone perché a settembre si è votato Nel 2018 ad esempio abbiamo mantenuto il trend delle politiche Però dopo, allora nel 2018 c'erano altre dinamiche che portavano tutti a dare consenso al suo partito Ora però se parliamo a spunto Sicilia dove si è votato nello stesso giorno anche nel Lazio si è dimezzato il consenso votando nello stesso giorno Ecco questo aspetto volevo che... C'è qualche criticità, ecco lo sapete c'è qualche criticità Io guardo alla mia esperienza territoriale nel Movimento 5 Stelle Noi siamo stati diciamo i primi quasi a livello nazionale ad andare al voto La prima volta fu nel 2011 11 certo E quindi c'è un gruppo radicato e ovviamente il cittadino ha la necessità di conoscere a chi poi esprimere la propria preferenza Noi fortunatamente abbiamo comunque... Abbiamo sempre avuto la possibilità comunque di stare sempre a stretto contatto con i cittadini Quindi il cittadino che sceglie di decidere di votare il Movimento 5 Stelle Ma un po' le dispiace... Sa chi vota... Un po' le dispiace non essere della partita? Le dispiace non essere della partita? Ho fatto campagna elettorale per la lista del Movimento 5 Stelle Ho seguito i candidati Mi sono divertita tantissimo E ho dato tutto l'aiuto di cui loro avevano bisogno E da grande che cosa farà Patrizia Manso? E da grande io continuo a dare comunque una mano La politica ti entra nel sangue E soprattutto ci sono degli aspetti legati ai diritti sociali e ai diritti civili Che difficilmente andranno in soffitta Ma necessitano sempre di una politica attiva sul territorio Comunque un posto ce l'ho qui a contrarrovescia Perché non essendo candidata Può far da opinionista qui a settembre quando riprenderemo Comunque vedremo anche Insomma sarà una partita aperta Tutti i partiti possono vincere e possono perdere Quindi lunedì vedremo chi ha vinto e chi ha perso Allora lei in questo momento ha la possibilità di dire agli elettori Che la stanno guardando Perché votare il suo partito? Ma intanto perché è un partito che ha nel DNA Tutela dell'ambiente, tutela del territorio e soprattutto giustizia sociale È un partito che ha messo insieme tutte le anime progressiste del centro-sinistra E per la prima volta si è costituita una lista unitaria Quindi l'alternativa progressista è proprio questo A livello nazionale un passo si è fatto avanti Poi inutile pensare di declinare soltanto quelli che sono i problemi Noi dobbiamo dare risoluzione ai problemi e ce li abbiamo Perché vi dico anche che dal Molise partirà una proposta di legge Per modificare quindi norme sull'energia Perché abbiamo alcuni progetti molto importanti Tra cui lo anticipo anche quello del conto corrente energetico Quindi si parlerà di produzione di energia e sulla possibilità di utilizzarla In qualsiasi momento Quando la persona la produce Quindi in qualsiasi momento della sua vita E la cosa molto importante è che è legata alle comunità energetiche Come dicevo prima noi abbiamo fatto una campagna elettorale sui temi Perché abbiamo delle soluzioni molto interessanti Sul turismo sostenibile riteniamo che il Molise è una regione Che può vivere anche di turismo E la cosa che mi fa più impressione è che negli ultimi tre anni Il Molise ha buttato dalla finestra 8 milioni di euro Per fare pubblicità ad un progetto, ad un prodotto che ancora non esiste Perché rendiamoci conto che il Molise ancora non ha un ente Che fa monitoraggio dei flussi turistici Cioè non sappiamo quanta gente viene ogni giorno in Molise Non abbiamo creato network tra gli operatori Che non sono soltanto gli alberghi o le strutture alberghiere Il Molise è una... sono 136 comuni Cioè abbiamo i piccoli borghi Una politica delle emozioni Cioè noi dobbiamo cercare di mettere insieme Anche coloro i quali vogliono tornare a investire nel Molise Perché hanno la casa della nonna, la casa della zia E fare anche turismo a livello professionale Creare rete, creare uno sviluppo sul territorio E soprattutto mettere insieme quelle che sono le politiche degli enti Perché noi abbiamo sì dei beni sul territorio molto importanti Ma questi beni devono essere anche utilizzati Sabatini, perché i Moliseani dovrebbero votare Roberto Presidente? Perché è una persona che ha già dato prova di grande capacità Perché è una persona di carattere molto deciso Io l'ho conosciuto molto bene in questo periodo E perché è una persona che è mossa da intenzioni assolutamente condivisibili, lodevoli E' uno che ha già un quadro chiaro di quello che intende fare Nel caso in cui dovesse essere eletto Io credo che lo sarà eletto Nel senso che lui vuole ripartire da una riorganizzazione della macchina amministrativa della regione In totale, totale discontinuità con il passato Successivamente c'è da affrontare il problema infrastrutturale E qui già abbiamo avuto delle forti rassicurazioni Da parte del Ministro delle Infrastrutture Che è venuto quattro volte, oggi verrà per la quinta volta in Molise Che ha promesso e si è impegnato in modo molto convincente Per questa regione ci saranno sicuramente dei finanziamenti Ci sarà il PNRR, bisognerà cercare di spendere questi soldi Che non sono regalati, sono solo un prestito In modo da non lasciare debiti alle future generazioni Ma da lasciare invece degli investimenti concreti Che possano continuare, possano produrre nuova ricchezza Per quanto riguarda la sanità Ci sono state assicurazioni direttamente del Ministro della Salute Per quanto riguarda il problema Molise Sarà fatto un decreto Molise così come è stato fatto per la Calabria Per la Basilicata, per la Campania Perché noi non siamo secondi a nessuno Allora tutti questi insieme di iniziative Che verranno posti in essere dal Governo regionale In totale accordo Gli accordi già ci sono col Governo nazionale Votare Roberti perché lui lavora per la Regione Il Governo nazionale lavora per la Regione E tutti insieme ce la possiamo fare Nicola Lanza, perché Molise anni dovrebbero votare Emilio Izzo Presidente? Beh, intanto devo fare gli auguri al campo progressista Quelli che hanno scelto nella continuità di allearsi con i Faccioli e la Fanelli Per esempio Oppure al volto nuovo del centrodestra, Roberti Che continuerà a governare laddove dovesse essere eletto Insieme a tutta quella parte di politica Che ha rappresentato in questi ultimi 5 anni i disastri del territorio Però prima bisogna essere eletti Prima di ogni cosa Lanza Chi Roberti dice? No, di chiunque Anche i consiglieri uscendi Beh, io mi auguro intanto che gli elettori scelgano volti nuovi Qualunque sia il loro pensiero Se decidessero per il centrodestra o per il centrosilistro Se decidessero Emilio Izzo come candidato Presidente E quindi la nostra listra è evidente Noi ci siamo perché diciamo siamo stato un movimento di lotte In questo decennio di lotte e di proposte Adesso ci siamo per mettere in campo Quelle che sono le proposte Che in questi anni abbiamo tirato fuori E che quindi diamo a noi stessi Ai molisani, a chi non vota Ai delusi La possibilità di dire Una rappresentanza possibile In questo momento c'è Tenetela in considerazione Immagino che voi ci conosciate Ci avete conosciuti in questi anni E che quindi voglio dire Avete tutti Gli strumenti per decidere Quale deve essere il futuro di questo territorio Noi ci auguriamo Che avremo la possibilità Di arrivare al governo della regione E avviare un reale cambio di passo Manuere, perché i molisani Dovebbero scegliere Gravina La guida della regione? Scegliere Gravina Per non solo una discontinuità Rispetto a un candidato presidente Che è Roberto Gravina Che ovviamente ha dalla sua Una razionalità E dell'aver fatto un'analisi lucida Purtroppo oggi il Molise Si trova dinanzi Non a un bivio Come spesse volte sentiamo dire Ma c'è bisogno di fare Delle scelte coraggiose Io credo che una classe politica Che per molti anni Ha rappresentato Nelle diverse legislature Il governo regionale E non ha fatto delle scelte Io credo che oggi Delle proposte nuove E delle ricette nuove Non le possa certamente propinare Nel 2023 Perché se parliamo di sanità La sanità ha bisogno Di una ristrutturazione radicale Ci sono delle tematiche Di carattere nazionale Perché purtroppo Ci siamo resi conti Che il sistema regionale Non sempre È solo quello molisano Che vive situazioni di difficoltà Ma ci sono tante altre regioni Anche quelle più virtuose Che hanno delle sofferenze Però noi abbiamo portato Una sanità molisana Al baratro Nel garantire I livelli essenziali Di assistenza Cioè non stiamo parlando Di prestazioni ambulatoriali E queste situazioni Sono ben note Purtroppo il Molise Molto spesso Ha preferito Non solo Non mettere in atto Delle azioni di revisione Ha preferito Anche non scegliere Molto spesso La non scelta È peggio Della scelta Se vogliamo parlare Di infrastrutture È alquanto Dico Un po' Illusorio Propinare nel 2023 Un'autostrada Noi abbiamo bisogno Di un'infrastruttura Stradale Principale A due corsie Per senso di marcia Che venga fatta A piccoli lotti E c'è bisogno Soprattutto Di ridare dignità Alle strade Di collegamento Di paesi Perché oggi Nel 2023 Ci sono paesi Della regione Morise Che non sono collegati Hanno delle mulattiere Quindi fare progetti Faraonici Non attinenti Al territorio Io credo Che sia l'ennesimo Purtroppo salto Nel buio E non ce lo possiamo permettere Il Movimento 5 Stelle Tiene molto A queste elezioni Tant'è che Il vostro leader Conte Ha toccato Le principali piazze Da Venafro A Termoli Che cosa Significa per voi Questo La competizione Elettorale Delle regionali E cosa sperate Di ottenere Manzo Beh Noi speriamo Di veramente Poter scrivere Un'altra storia In questa Per la regione Per la regione Molise La presenza Del presidente Conte Una persona Comunque Che ha sempre avuto Si è assunto Il coraggio Delle proprie scelte Anche in un momento Difficile Perché ormai La pandemia Tutti noi Ce la viviamo L'abbiamo buttata Alle spalle Però non è poi Tanto Lontana E quindi Avere anche Il suo sostegno Qui per noi È stato comunque Un passaggio importante E soprattutto Abbiamo toccato Con mano L'affetto Che tanti cittadini Nutrono Nei nostri Confronti E nel presidente Conte Ovviamente Noi speriamo Finalmente Di poter Portare Anche in Molise Quel concetto Nell'agenda politica Di transizione Ecologica Che siamo riusciti A portare Anche a livello Nazionale Ormai tutti Parlano di transizione Ecologica Però diciamolo Che è stato Grazie al governo Conte A portare A mettere Nell'agenda politica Di questo paese Una necessità Di trasformare Di guardare avanti Di creare futuro Di dare nuove prospettive E di creare anche Nuova occupazione Perché è vero Che non c'è lavoro Ma è pur vero Che ci sono tantissimi settori Che creano nuove opportunità Di lavoro Che sono tutti Quei settori innovativi Energetici Legati alla green economy Legati alla blue economy Che fanno trovare spazio Soprattutto Alle nuove generazioni E quindi È su quello Che dobbiamo Credere E poi soprattutto Perché dobbiamo dare importanza A una riforma Reale e concreta Delle politiche sociali Della nostra Delle politiche attive Del lavoro Della nostra regione Per cinque anni Abbiamo chiesto Una riforma E dei centri per l'impiego E dell'agenzia regionale Molise lavoro Ad oggi Se io dovessi chiedere Le cenerentole Perché L'assessorato Alle politiche del lavoro L'assessorato Alle politiche sociali È sempre stato trattato Come una cenerentola Abbiamo visto I vari passaggi Se dovessi chiedere Quante persone Perderanno il lavoro domani Per la transizione Bene Grazie a tutti Abbiamo dato spazio A tutte e quattordici Le coalizioni Presenti In questa tornata elettorale Tre candidati Presidenti E questa sera Ringrazio Piero Neri Stefano Sabatini Nicola Lanza Paolo Emanuele Grazie E Patrizia Manzo Che avremo qui con noi La ripresa Come opinionista Di conto Alla rovescia Bene Allora Grazie a tutti Allora che vinca il migliore Lunedì Sapremo chi sarà Il nuovo presidente Forse martedì All'alba Sapremo chi sarà Il nuovo presidente Della regione molise Noi dalle 15 di lunedì Inizieremo il nostro Stop elettorale In grande rispegno Di energie Seguiteci perché Alle 16 A 30 Andremo anche Le prime proiezioni Di questa tornata Regionale Del 2023 Grazie agli ospiti Per averci seguito Vinca il migliore E ci sentiremo lunedì Per il nostro Stop elettorale E poi venerdì Per l'ultima puntata Della stagione Di conto Alla rovescia Buona serata a tutti E grazie per averci seguito Ciao a tutti Ovara bien Inizieremo Subtitlui SfA N